Sorte di Dio Ah nooo Cussù è forte Colin Colin... Colin... Mazza cussù che... che faccia raccomandabile proprio Oh quella bottiglia proprio C'è proprio raccomandabile Li daresti le chiavi di casa eh? Ehm... Tanto per togliermelo di torno Ma anche sennò gli alieni comunque te le prendi Guarda che capola di faccia c'ha Uffi Oh! Ordin! Brodin si chiama Attenzione Ah! Ti viagis Ma io mi prendo cura di Brodin Mi faccio questo gran favore Vabbè fatti Vado chi sei? Quello raccomandabile Mo l'hai visto scusa Ma ti fa un... un po' troppo bene Vabbò non poteva resistere Ma il mio mi sa che è una merda Nooo in realtà non è male C'ha lo stesso corpo di quell'altro senza la maglia Regno Però gli hanno messo la maglia Sì è uguale Sì è uguale Tu sono cloni E' la? E' la? Sì è uguale Ah! Oh non mi si è fatta niente Ma guarda con il suo è fenomenale Che roba C'ha morto Guarda che forte quello apocorafone C'è c'ha una faccia Ma hai cattive attenzioni? Nooo Schiaffetto Però... Guarda il tuo! Sta tipo... Ok quello dopo che si fa due tre strisce di coca Vedi e ne assagagliate Sta in... sopra... Come si dice? Sopra a giri Fuori giri Attenzione Rod Che non ti fratturi il polso maneggiando quell'arma eh E si ha fatto male secondo me E questa Rod ti farà male Ma il mio c'ha l'abilità speciale quella premendo il bottone verso il basso Allora quello è morto Come hai fatto a farmi... Nooo Non è tanto forte quelle armi C'è questa massa io non l'ho mai vista Vabbè io C'è praticamente l'ha piato appena cossa Lo stava... Tortorato tipo strofinaggio Non lo so che... Attenzione Ma bonzo Vabbè amore amore Ma è uscito dallo spizio Può vale sfilare Qualche categoria protetta Oh! Perché... come si dice? Fenomeno da baraccone E perchè la vive capi? Quale... Quale le similate di uomo che sembra cucciare vertigliosi? Oh mannaggia la marrocca Glenn schiva E la tua abilità è quasi a buscacci Ma va bene Eh... Bonza Bravo eh Mi rotti i coglioni! Tu c'ha... C'ha dei suoni che sono usciti Ia 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 Eh ci volevano due persone per sollevare Questa è tortura Eh... Gli ho rifatto il naso Però lui capisce alla fronte oramai che ci avrà 200 placche d'acciaio Le hanno ricucidato talmente tante volte Ma anche il cervello è più suo Un trapianto di cervello Eh... che cazzo Mentre che li farebbe male? Sì! E' una foglia Mentre che li farà male! Si che li farà male? Paa! Quella ho fatto male a fondo Ah, ma ci penso io a questo, gli rifacciamo subito. E' molto veloce. Maggi. Vengono. Oh. Oh. Grande lì. Ma buon'è. Questa è la violenza sui miei, ma sì. Ma so. Proprio gli ha iettato in gol. Ma il tuo, cioè, di una crudeltà e una perfidia. Secondo me questo qua è tipo, lo appicca fuoco agli animali ancora quando sono in gabbia. Mamma mia. C'è la faccia proprio di uno che lo fai agli animali. Ma io direi di concentrarci su Anders. Perché è di un'eleganza. E' attenzione che oggi non ho ancora acchiappato le farfalle. No, no, l'animista è acchiappato. Oh. Ahia. Ahia. Oh. E' là, Lidlerton. E' li facciamo subito le gambine. Sì, vieni qua. Vediamo che devi fa... Oh. Ahia. Ti ha fatto male. Oh, Anders, è il più brutto di tutti. Sì, ma è la mossa che... Sì, c'ha pure la bocca aperta mentre lo favo. D-R-Tan-Dot. Comunque sembrano tutti i nomi di ali. Ea, ea! Dai, che si farà male? Oh, yeah, oh, yeah! Oh, yeah, oh, yeah! Oh, yeah, oh, yeah! Oh, yeah, oh, yeah! Sì! E' schiva qualcosa! Ma, vabbè. Mi si farà male. Ahia! Però... Sincronizzare. Madonna mia, che so farà. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Cioè, il tuo capi pure se deve a cacare. Cioè, una cosa o scena. Mi senti che risata malvagia. No, non si picchiano in un orenno. Ahia, ma si fa male. Ah! 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 Ehi si ha fatto mal. No! Ahia! Ah! il mio è in assoluto il più rumoroso del gioco possiamo dire che cazzo sono quelli con tipo le sopracciglia una abbassata e una alzata ancora più compromettante ma quello perché l'hanno riattaccata mano ma una paresi dopo non mi stupire ma io sono un allievo di kadonashi e kadonashi ci sta buscando ma kadonashi è la stessa età di quell'altro la bomba non esageri a foto mannaggia la pupazza alex come me la può schivare questa? ah non me la schivo allora aia nooo no 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 Eh, que... Oh! Bang! Eh... Uuuuh! Attenzione! Te l'ha grappato in volo e tu gli hai mollato il cancione! Questo è il suo combo, sembra! Mi gusta! Mi gusta! Attenzione che c'ho i tacchi eh! Aia! Oh! Nooo, tu devi levartela sta cosa che sembra un coltellino! Mackenzie! Eh, tu! Eh, tu! Oh! Bravo eh! Bravo! Ah! Ah! Aia! Ah! 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 Grazie.